Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, si rilassano in Sardegna. La coppia prepara la luna di miele. Prima vacanza da sogno per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo il sì dello scorso giugno sono sbarcati in Sardegna dove stanno vivendo la loro tappa da sposati, prima del momento tanto atteso della luna di miele. I due piccioncini se la spassano sull'incantevole isola tra bagni in acque cristalline e un oceano di amore, che testimonia ancora una volta quanto sia grande il sentimento che li unisce. E, un bel periodo di consapevolezza, aveva detto di recente Cecilia, parlando anche del bisogno di recuperare le energie dopo mesi stressanti per l'organizzazione delle festa andata in scena nella villa di Aritmico in Toscana. La festa è stata da favola, sulle colline toscane insieme a tutte le persone più speciali della vita degli sposi. Belen Rodriguez è stata la damigella d'onore della coppia, mentre Santiago de Martino ha portato le fedi dei due. Emozioni e divertimento a non finire anche al party, dove non sono mancati musica dal vivo e brindisi. E dopo il matrimonio non è ancora arrivato il momento di tornare alla normalità per i due, che continuano a godersela e a rilassarsi in Sardegna in attesa di partire per il viaggio di nozze in programma a ottobre. Cecilia e Ignazio hanno voluto scaricare le tensioni delle nozze e pianificare con più calma la vacanza più attesa della loro vita.